Viviana Parisi era con il figlio a Sant'Agata di Militello, la prova in un video, il magistrato erano insieme anche al momento dell'incidente. Emergenza Covid, avvisi di garanzia a Conte e sei ministri, Palazzo Chigi, atto dovuto, procura chiede archiviazione, denunce infondate. Furbetti del bonus, Lega sospende due deputati, Salvini dice non saranno ricandidati domani, il presidente dell'Inps tridico alla Camera. Contagio in salita, allerta a focolai da rientro, vacanze, tamponi per chi torna da Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Allarme e discoteche, nuove misure da Puglia e Toscana, reportage del TG1 tra i giovani della notte senza mascherina. Stati Uniti, esordio della coppia democratica Biden-Harris, la candidata alla vicepresidenza attacca Trump, ricostruiremo l'America. Lungo la via degli dèi, da Bologna a Firenze, un gruppo di ecologisti a piedi per raccogliere la plastica gettata a terra, ripuliscono l'ambiente camminando. Buongiorno dal TG1, le ricerche del piccolo Joelle e l'inchiesta sulla morte di sua madre Viviana. In un video si vede il bambino con la donna. Era insieme anche al momento dell'incidente, dice il magistrato. Le ricerche si concentrano nel tratto di campagna che va dal guardrail al punto dove è stato ritrovato il corpo della DJ. L'appello del PM a chi ha soccorso la donna. L'inviato, Vittorio Romano.